Noi siamo da sette mesi ormai che non prendiamo più stipendi e non sappiamo nemmeno a chi siamo più figli, dalla regione o dalla provincia. La maggior parte di noi, anche come donne, siamo dei capi famiglie. Tutti quanti qua hanno una sola attività lavorativa. Noi chiediamo urgentemente un incontro con le istituzioni. Le istituzioni facciano il loro dovere, che fino adesso non l'hanno fatto. C'era una legge l'anno scorso, le 26.10, che non è stata assolutamente prorogata. Quindi noi chiediamo che venga attuata questa legge. La maggior parte di questa legge è stata assolutamente prorogata, che non è stata assolutamente prorogata, non è stata assolutamente prorogata, non è stata assoluta. La maggior parte di questa legge è stata assoluta. La maggior parte di questa legge è stata assolutamente prorogata, non è stata assoluta. Grazie a tutti.